Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di The Sims 4 Ieri martedì 13 novembre c'è stato un aggiornamento gratuito per pc su console ragazzi non vi so dire nulla, non mi informo comunque è molto grande che ha introdotto tante tante novità interessanti che in questa recensione vi farò vedere tutto ho cambiato un metodo, in pratica la mia voce la sto mettendo in editing in modo che ho potuto esplorare con tutta calma quindi vi sto portando una recensione molto completa vi ricordo che l'aggiornamento riguarda il gioco base quindi non sarete poi obbligati a comprare l'espansione nuove stelle in questo caso o gli altri pack ma anche chi ha solo il gioco base può tranquillamente scaricarlo e giocarci per chi è capitato qui per caso e non mi conosce io sono Carly Encourus o meglio Elena ti do il benvenuto spero che ti piaceranno anche le serie in corso se gli darei un'occhiata e niente ragazzi iniziamo perché sono troppo eccitata non appena si carica il gioco ci troviamo davanti una bella novità hanno introdotto la sfida della positività la positività fa girare il mondo aiuta i tuoi sim a dire una parola gentile a essere disponibili e migliora il loro quartiere i tuoi sim hanno mai desiderato migliorare il mondo? per un periodo limitato i tuoi sim potranno guadagnare poster motivanti ricchi di una potente energia positiva come premio per aver reso il quartiere un posto migliore questo lo vedremo un po' più avanti del video prima la mia intenzione era quella di andare su nuova partita perché hanno cambiato il sistema di tutorial iniziale adesso la schermata ci compare così se andiamo su no saltiamo il tutorial e continuiamo come sempre mentre andando sul ciclo che farò adesso io giocheremo con il tutorial e ci troveremo di fronte un'altra bella novità ovvero crea un sim ti dà il benvenuto qui nascono la tua storia e i tuoi personaggi clicca in giro e sperimenta clicca sui pulsanti in alto per dare un nome al tuo sim l'aspetto è importante clicca sul sim per sceglierne i vestiti, i capelli, il colore della pelle, il trucco, la forma del corpo e così via ricrea la tua figura, qualcuno che conosci o magari una celebrità chi è il tuo sim? cosa riuscirà a fare? scegli un'aspirazione, detta anche obiettivo vitalizio clicca su uno dei pulsanti sulla sinistra dello schermo trovo che la voce guidata sia veramente un buon aiuto ed è anche tutto molto semplificato come vedete le aspirazioni adesso sono raggruppate in quattro categorie atleta, chef, creatore di tendenze questo l'hanno fatto visto che nel gioco base hanno aggiunto questa nuova carriera dell'influencer e poi pittore non vi preoccupate perché una volta poi che sarà finito il tutorial comunque potrete scegliere una delle aspirazioni che conosciamo tutti perché si sbloccheranno anche tutte le altre i tratti in questo caso non ho potuto cambiarli secondo me perché appunto fa parte del tutorial e poi come sempre potete cambiare la voce, la camminata tutti i capelli, i vestiti potete farlo tranquillamente uscita dal CAS mi sono ritrovata catapultata in una casetta che ha consigliato il gioco perché infatti il tutorial dice che sceglierà la casa perfetta per il sim per iniziare una partita The Sims 4 ti dà il benvenuto ti mostreremo le incredibili storie che potrai raccontare in questo gioco sulla vita Dovrai imparare a controllare la visuale per vedere le cose che vuoi vedere Usa i pulsanti e la rotellina del mouse per controllare la visuale Prova adesso Oh, ritratti! Il tuo sim dovrebbe seguire Alex dentro casa Clicca il tasto destro sul ritratto di Alex per vedere dove va Clicca poi ovunque sul terreno e seleziona vai qui Se dovessi perdere di vista un sim Clicca due volte sul suo ritratto per trovarlo I sim hanno dei bisogni essenziali E al momento il tuo è affamato Niente paura Alex preparerà un pasto per il tuo sim Come avete sentito il tutorial voce ci segue davvero per tutto il tutorial Lo trovo un buon metodo Soprattutto per i bambini che si approcciano a questo gioco Perché sembra per noi facile ma in realtà non è poi così semplice Perché comunque in The Sims si sa Ci sono tante 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 interazioni Cose da fare, da vedere E lo trovo molto utile Mi piace Nel frattempo che quella Alex ci cucina Io ho approfittato per vedere la casetta E a parte questo errore Che il tetto è un po' fuori Vabbè, dettagli Comunque come casetta starter La trovo davvero deliziosa Molto spaziosa Anche ben arridata C'è questo salotto La cucina Due camere Un bagno Addirittura uno studio Su cui c'è tutto Il cavalletto Il computer Fuori c'è anche la pianta del bonsai Insomma c'è veramente tutto Per iniziare E sperimentare Appunto Tutto Ok poi comunque Tutorial continua Prendendo la porzione Ho dato una sbirciatina Al pannello dell'aspirazione E in fine conti Non riguarda proprio l'aspirazione Ma riguarda proprio la vita del sim Quindi salutare altri sim Fare amicizia Andare a letto Andare a lavoro Cioè insomma è proprio un tutorial Quindi io adesso lascio questa parte E continuiamo con il resto Dell'aggiornamento Un'altra novità doveva riguardare Le coincine degli scenari Ovvero dovevano essere Più piccoline A me Non è cambiato nulla Penso che forse Con l'arrivo di nuove stelle Vedrò il cambiamento D'alcuni l'ho visto Che sono più piccole A me ancora no Avrete notato L'iconcina Sia quando ho avviato il gioco Sia adesso Lì Lo scenario nuovo No? The Soul Valley Questo perché L'ho già preordinato E non vedo l'ora Che sia venerdì Per giocarci Allora Prima cosa che ho fatto È andare da Abby Collins La mia simina Che chi conosce la serie Crazy Love Sa Ecco Perché hanno aggiunto Una bellissima cosa Tramite il telefono Che io Non vedevo l'ora Di fare E quando ho aperto il telefono Mi sono resa conto Non solo che comunque È cambiata l'interfaccia Ma sono cambiate un po' L'interfaccia E le concine in generale Ma che sono state aggiunte Due interazioni Bellissime Ovvero Aggiungere una storia Sost'Instagram E infatti Lei si è fatta una foto E sta scrivendo Ed è uscita la notifica Che l'immagine Era perfetta Per l'umore di oggi I due follower Si sentivano Allo stesso modo E aveva guadagnato 12 follower Questo è un in più Anche alla carriera Dei social media E soprattutto All'influencer Quindi hanno Veramente ampliato La sfera social Un'altra interazione Carina È quella di Controlla Il diario Dei social media Solo che in questo caso Lei scrive Sul telefonino E È la stessa cosa Si può fare anche Tramite il computer Solo che non esce Nessuna notifica È giusto una cosa Così E andando Sulle concine A carriera Oltre a cerca un lavoro Adesso abbiamo Registra Al ministero Del lavoro Si aprirà Un piccolo riquadro Su cui adesso Possiamo scrivere Il titolo professionale E anche inserire Una descrizione Per il lavoro Ragazzi Finalmente Possiamo scrivere Qualsiasi cosa Tipo Idraulico Giardiniere Meccanico Informatico Veramente Qualsiasi cosa Anche per esempio Scrittrice Anche se esiste La carriera Però noi Non vogliamo fare La carriera Vogliamo essere Più dei freelance Possiamo farlo In questo caso A Debbie Io gli ho scritto Che è un'editrice E nella descrizione E nella descrizione Ho specificato Che revisiona E pubblica libri In una piccola Casa editrice Poi sono corsa Da un altro sim Perché ero curiosa Di vedere Alla domanda Sulla carriera Lei Cosa ci risponde E infatti Ci ha risposto Che è un'editrice Anche cliccando Sul simbolo Della simmina Proprio di Di lei Esce il nuovo simbolo Di questo mino Insomma Con la 24 ore Con suo scritto Editrice Ed è bellissimo Finalmente Non comparirà più Quella cosa Di disoccupati E passiamo A un'altra simmina Che mi interessava Particolarmente Proprio in vista Di questo aggiornamento Intanto Al pc Vi faccio vedere Che quelle funzioni Che prima abbiamo visto Il cellulare Le troviamo Proprio Nel social network Perché appunto Erano in più Per la carriera Dei social media Ovvero Quella che è uscita Con video in città Però Chi non ha Quell'espansione Può tranquillamente Farle al cellulare Come abbiamo visto Prima Ok Ma andiamo Alla parte succulente Ovvero Il cercare Un nuovo lavoro Perché adesso Con il gioco base Avrete la nuova carriera Di influencer Di stili Io adesso Non vi vado a leggere Tutta la descrizione Perché comunque Poi questa carriera La vedrò Proprio con questa sim Rache Nella serie Crazy Love Vedremo passo passo Come funziona Intanto ci sono Due rami Creatrice di Tendenze E stilista E inizierà come Recensitrice Inbrattacarte E avrà il libro Il sabato e la domenica L'orario È dalle nove Alle cinque Come prima cosa Da fare Ci dà Un'assegnazione Lavorativa Ovvero quella Di intervistare Dei sim E quindi Io invito a casa Una sim A caso Perché volevo Vedere le interazioni Sbloccate E sono quelle Di intervistare Quindi lei Starà lì con il Tacquino A prendere appunti A chiacchierare Oppure di discutere Di abiti E di moda Al computer Nella sezione Scrivi Ci sono anche Sbloccate Due nuove interazioni Ovvero Quello di scrivere Un articolo Oppure Tenere un blog Di moda Adesso qui Non l'ho fatto Vedere L'ho saltato Perché appunto Ripeto Questa cosa L'approfondiremo Tutta quanta Insieme Nella serie Crazy Love Aprendo la modalità Compra Mi sono ritrovata Come novità Questo cassettone Del creatore Di tendenze Poi Inerente Alla carriera Dell'influencer C'è la tavola Stilistica Delle tendenze E qui Conserveremo Gli spunti Raccolti Attraverso Un sim Che ha intrapreso Questa carriera Quindi si sblocca A livello 1 Dell'influencer Di stili L'ho posizionato Qui E in effetti Cliccandoci sopra Occorre trovare Degli spunti Che giocando Mi sono resa conto Che l'ho sbloccato Anche parlando Con un sim Facendoli complimenti Discutendo Di moda E cose così E cliccando Per inserirlo Compaiono Queste Tavolozze Su cui ci sono I colori Quindi Lei è come se Salì A scegliere Una palette Di colori Per uno stile Che vuole creare Riabbigliamento E più andremo avanti Nella carriera Più si sbloccheranno Nuove cose Possiamo anche Scegliere Poi Degli abiti In questo caso Stiamo entrando Nel CAS E mi sono resa conto Che ci sono soltanto Due giacche nuove Una È molto stile Rock È nera Dietro Ha dei disinini Sulla schiena Ha quattro stili Insomma L'altra È quella che mi piace Molto molto di più Perché è di jeans Ha i polsini E sopra il colletto Di peluche Insomma Di pelo Bellissima E ha tanti colori Questa veramente Mi piace tanto Poi Per il resto Non ho Non ho riscontrato Novità Novità In campo tecnologico Infatti Lo trovate Proprio nel campo Dell'elettronica Dove ci sono I tre pallini Ed è L'album Di schizzi Digitalistico Questo fa acquisire L'abilità a pittura E infatti Come vedete Abbiamo tutte le cose Che escono Sul cavalletto Per dipingere Che noi conosciamo Ma in più C'è l'opzione Del disegno Anzi Del dipinto Illustrativo È meraviglioso È molto comodo Questo perché Comunque possiamo Portarlo con noi Possiamo Digitalizzare I disegni Diciamo che Oggi come oggi È Perfetto Perché appunto È una cosa moderna Noi lo usiamo già Usiamo Il tablet L'ipad Insomma così E ci sta bene Anche per i sim Una cosa Che io vorrei Che spero Faranno uscire Ma secondo me Se mai ci sarà Un'espansione Sull'università Forse la implementeranno lì Io vorrei tanto I computer portatili Perché Sono molto comodi Ho provato a fare Anche un dipinto normale Come vedete Sto sfruttando La telecamera In prima persona Così vedo Proprio dal davanti Il disegno Come se stessi Disegnando io E come vedete Questo è uno dei quadri Che già conosciamo Che abbiamo visto Sul cavalletto Per dipingere Quindi No davvero Mi piace tantissimo Questa Questa piccola Novità Tecnologica Una volta finito Poi noi Come vedete I dipinti O gli schizzi Li troviamo Nell'inventario E possiamo poi Metterli sul muro Proprio come facevamo Con i dipinti Con calma Ho fatto Più di un dipinto Illustrativo Perché volevo vedere Cosa ne usciva fuori E sono meravigliosi Avete visto Tra i piccolini C'è tipo Proprio un disegno Il medio Era un dipinto Colorato In grande Mi ha fatto Questa tela Pazzesca Cioè Che dire Senza parole Ho sperimentato Anche con poche clip La modalità In prima persona Per poterla attivare Dovete cliccare Contemporaneamente Tab e shift Sulla tastiera È davvero molto sfiziosa Non è poi così semplice Perché tipo Se volete camminare Per casa Dovete cliccare Sul pavimento In un punto esatto E fare Vai qui Quindi non potete Avvalervi delle frecce Sulla tastiera O del mouse Insomma Che vi guida Comunque Voglio farne un video A parte Perché voglio provare Più cose E giocarci con calma Quindi in giornata Penso in pomeriggio Poi lo troverete E vi dirò Come la penso Di più Potete anche in questo caso Mettervi in modalità Tab Cliccando proprio Tab In modo da far Togliere tutta la schermata Intorno Come in questa immagine E poi ricliccando Tab Si rimette L'unica cosa Che ho notato È che quando Esco fuori Dalla modalità Per pochi secondi Alla sim Manca la testa Fa un po' impressione Però fortunatamente Questa cosa dura poco Vedete È questo l'effetto Ok Poi ho sperimentato L'andare in bagno A lavare le mani E i denti Perché volevo proprio Vedere Come lei cammina per casa E questa è la visuale Che avete Cioè come vi ho detto I movimenti sono Un po' bruschi Sono veloci Giustamente Perché è proprio Il sim A muoversi Però ripeto È una novità Molto carina Non la userò spesso La userò Per enfatizzare Alcune scene Come già faccio Con il tasto tab No Avete presente Quando alcune volte Mentre gioco Voglio zoomare Su una situazione Per raccontarla meglio Ecco questa è un'altra cosa Tipo ecco Vedere il sim Mentre dipinge Da vicino Oppure Che ne so Le espressioni Di altri sim Magari quando avremo I paparazzi Con l'espansione Vedete Fare pipì E avere un'altra prospettiva Cioè vedere Il bagno Insomma cose così Però Un video A parte lo faccio Novità Sorpresa Di oggi Era quella Di chiamare La coordinatrice Dell'evento Ovvero Per quanto riguarda La sfida Della positività Quindi Anziché chiamare Jasmine Holiday Questa volta Chiamiamo Millie Bobby Brown E possiamo chiedere Della sfida E poi Lanciare la sfida Ed esce scritto È là Per uscire Nella sfida Della positività Devi svolgere Una serie di compiti Gentili Generosi Amorevoli Per altri sim Sei amichevole Con altri sim O renditi utile I tuoi vicini Va bene qualsiasi cosa Che ti fonda L'energia positiva Dove aver completato Una fase Dell'aspirazione Assicurati di aprire La scatola Della gentilezza Per ricevere Un premio Infatti Ci dice Congratulazioni Rachel Ha sbloccato L'aspirazione Nascosta Sfida Della positività La possiamo trovare Fra le altre Aspirazioni Legate alla sfida Quindi Ci lancia Questa sfida Noi una volta pronte Possiamo appunto Prendere L'aspirazione Leggere I vari obiettivi Che si dividono In quattro livelli E ragazzi Io l'ho completata Tutta Infatti Vi faccio Una sintesi In pratica Vedete qui Nuo primo livello Buonazione Incontri un nuovo sim Livello 2 5 Buonazioni Livello 3 Puoi fare 7 buone azioni Diventa felice 3 volte Livello 4 Compiere 11 buone azioni E singe una nuova amicizia In pratica Le interazioni Sbloccate Verso gli altri sim Sono soltanto 2 Ovvero Rallegra Quando il tuo sim È felice Oppure In buffo Raccontare Una storia buffa Attenzione Perché i sim Diventano molto Molto giocosi Se le fate Più volte Ripetutamente Dopodiché Ho preso La scatola Questa bel pacco Di regali Che ci aveva lasciato Millie Bobby Brown All'ingresso E una volta terminata L'aspirazione Ho raccolto Tutti e 4 i premi Voi potete raccoglierli Anche dopo Ogni livello Superato Io l'ho fatto Tutti quanti insieme E quello che ne è uscito Che dal nostro inventario Raccogliamo I 4 poster Positivi Positivi poi Anche dal nome Ci sono Le cascate Paradiso Focunicorno A riposo Buon orzo A cattivo gioco E poi L'ultimo È successo Sono bellissime Un po' grandi Però tanto Possiamo rimpicciorirli Ma stupendi Dopodiché Ultima cosa Bisogna richiamare Millie Bobby Brown Per riscuotere Ulteriormente Un premio E lei Una volta arrivata A casa Ci dirà Che siamo diventate Ambasciatrice Della gentilezza Vai in giro Stringi amicizie E diffondi la positività Questo perché Con il completamento Dell'aspirazione Lei ha ricevuto Un nuovo tratto Proprio per questa Gentilezza E quindi Anche una nuova interazione Cliccando sui sim Può dire Può lanciare La sfida Della gentilezza Quindi Chiedere Sim Di essere gentili Quindi ci porteranno Fuori rifiuti Eccetera Eccetera Penso di non averlo detto Comunque questa sfida Ha il termine Di 21 giorni Quindi provatela Perché è molto Molto carina E siamo All'ultimissima Grande Novità Dell'aggiornamento Ovvero La manipolazione Del terreno A parte che adesso Le concine Come vi dicevo Sono anche un po' Cambiate Infatti adesso Quando viaggeremo Con il sim Oggi sposteremo Anziché avere Quella lenta di grandimento Avremo quelle Goncina Della macchina E ok Allora Ecco qui Il nuovo simbolo Che si chiama Manipolazione Del terreno E adesso È diviso In dipingere Il terreno Come abbiamo sempre fatto Gomma E all'ultimo C'è la pala Che va a significare Proprio Le funzioni La nuova funzionalità Anche qui Abbiamo la forma Tonda e quadrata Possiamo regolare La morbidezza E la velocità E possiamo Alzare Abbassare Scavare Addirittura Però non possiamo Creare dei laghetti E possiamo Comunque costruirci Con facilità Sopra Allora Questa non era una funzione Che a me Ha fatto impazzire Io sono stata Molto più entusiasta Per quanto riguarda La nuova carriera E la novità Tecnologica E tutte queste cosettine Qui Anche della telecamera In prima persona Questo non tanto Perché sì Io costruisco Per carità Però Adesso devo prenderci Molta confidenza Con questo strumento Però Non mi ha mai Fatto impazzire Infatti In disimistri Mi dava anche fastidio Perché Vabbè Lì era un po' Complicato Lì In pratica Creava molto ostacolo Il fatto che I terreni Non fossero Ben livellati Non si poteva Costruire sopra Mentre In disimisquattro In fin dei conti La modalità Costruisci E' veramente Molto semplificata E' molto semplice Anche fatto dei tetti Non ho mai trovato Tanta difficoltà Questa Deve essere sincera Non so se la userò spesso Però intanto Vi faccio vedere Che potete costruire Nonostante Abbiate fatto Una montagna Cioè Quindi potete fare Una casa Perché tanto Le fondamenta Verranno Messe all'interno Della montagna Potete mettere Le scale Su questi dossi Insomma Abbiamo molto Libero Molto libero Arbitrio Anche in questo caso Quindi molto semplice Ma una cosa Che volevo provare io Era quello di Creare una casa Su un piano E poi Visto che hanno Aggiunto Anche questa nuova funzionalità Ovvero di Innalzare Non ve lo so dire Non ve lo so spiegare Possiamo innalzare Lo stesso livello Cioè possiamo fare Vabbè Vedete le immagini Non ve lo so spiegare Però ecco Volevo poi ricreare La piscina Quindi sulle fondamenta E ho notato Che in effetti La casa Si resta Su un piano Quindi Quella cosa Delle fondamenta Della piscina Non influenza L'abitazione Ok Volevo provare poi Internamente Quindi a creare Una stanza Soltanto Innalzata Quindi poi Mettendoci una scaletta Eccetera Ma o non ci sono riuscita io O comunque Non si può fare Perché mi Alzava L'intera casa Quindi non posso Fare quello che avevo in mente Comunque Considerazioni finali E' stato un aggiornamento Ricco Mi è piaciuto tutto Spero di essere stata Anche molto esaustiva Vi ho fatto vedere Veramente Ogni singolo dettaglio Poi Ripeto Per quanto riguarda Telecamera In prima persona Vado a registrarmi adesso Tutte le varie clip Che ho voglia di sperimentare Calcolate che adesso Che sto finendo di editare Sono le 9 del mattino Cioè Oggi che è mercoledì Siamo in diretta Quindi Il tempo poi Che questo video Andrà online Io vado a giocare Insomma In serata Vedrete anche l'altro E E niente Quindi Ci vedremo nei prossimi video Ragazzi Tanti Mi piace i commentini E soprattutto Ditemi anche voi Cosa pensate Di questo aggiornamento Ciao Ciao